Forse attualmente è la vera sorpresa di questo campionato, ma siamo a Montecalcio. Una squadra vivace, una squadra vimpata, di ottima qualità, allenata con un allenatore molto umile ma preparato, che è Correale, che ha fatto in passato il collaboratore e adesso sta avendo una bellissima opportunità, sta facendo un ottimo lavoro con la squadra. Hanno giocatori che fino a due giorni fa erano un dimenticatoio, perché Negro è stato rivalutato dal Castelvolturno come calciatore. Oggi parliamo di uno dei migliori attaccanti della categoria, però hanno tantissimi giocatori di qualità. A Conte, Massimo, che è stato un mio ex calciatore a Marcianise, a Basso, un altro mio ex calciatore, a Procida, a Utiero, io venirei alla sala squalificato, ma a Pesce, a Piccolo, a Percuoco, quindi ha tanti giocatori importanti. All'andata le partite capitano, periodi brutti di una stagione e partite purtroppo penalizzate, però a di là di questo dobbiamo metterci una pieta sopra, domenica sarà tutta un'altra gara, veniamo da un buon momento, dobbiamo solo dare continuità a quello che abbiamo fatto, perché consapevoli di rispettare il Castelvolturno, perché affondiamo una squadra in forma, una squadra divasa, una squadra buona, e noi non siamo da meno assolutamente.